E caro Ferini, io ti vedo sempre più affaticato perché il povero Ferini è un rappresentante di commercio in realtà lui viaggia durante la giornata, non è che sta a Roma, poi ritorna puntualmente qui però non è che sta a Roma, oggi per esempio tu dove sei andato a vendere i tuoi petalos? Ho fatto tutta la tina fraginone A vendere i petalos? Petalos Venduti? Ma adesso volevo dire una cosa, lasciamo stare No, scusa, la tina fraginone hai venduto i petalos? No, niente, zero Zero, zero Ma perché non sei andato almeno a Terracina, il posto dove c'è il mare? No, perché scusi, uno deve farsi di lontano e andrete lontano Come? Più partite da lontano, più andiamo lontano un domani, in un futuro Queste sono popolazioni, sono 5, 6, 8, 1 mila milioni di persone in un futuro che dovrebbero dotare i petalos No, noi ci abbiamo fatto contratto l'Unione Sovietica, loro con lo Sputnik si fanno dei sistemi Dovrebbero mandare anche attorno alla terra un futuro Ma io non lo capisco questo Capito? Non lo capisco come fanno, ma mi adeguo Ho capito voi Sarà così, io evidentemente voi romagnoli siete più bravi di noi, meridionali Siete più acuti perché poi le fate le cose Tu li vendi questi petalos? No No, perché allora no, allora sbagliato, se non li vendi vuol dire che mi sembra Vuol dire che non lo dice la parola stessa, se no li vendevo Appunto, così mi sembra